Ieri abbiamo segnalato alla Regione Veneto un grave problema che abbiamo a Requaro Terme, quello dei cinghiali. L'anno scorso la nostra amministrazione ha cercato di trovare delle soluzioni, facendo degli incontri con i responsabili sia provinciali che anche i cacciatori della zona. Qualcosa si è fatto, certo che però quest'anno è una situazione molto grave. A Requaro Terme i cinghiali si trovano proprio bene e si stanno moltiplicando. Sono almeno un centinaio gli esemplari che sono stati avvistati fino ad ora, che alla ricerca di cibo però stanno rovistando il territorio comunale, creando un grave danno per culture, pascoli e prati. L'amministrazione comunale ha provato a stimarne l'impatto che avrebbe causato danni per 250 mila euro ad allevatori e agricoltori. Ecco che il sindaco si è appellato a provincia e regione affinché si adotti un'azione di contenimento per evitare che la situazione finisca completamente fuori controllo. Abbiamo appunto segnalato alla regione di intervenire in qualche maniera perché i danni che sono stati fatti sul territorio, nell'area del Malghe e anche negli orti privati, si parla quasi di 250 mila euro di danni nel nostro paese. Dunque un grave problema, dobbiamo trovare delle soluzioni urgentemente perché altrimenti la cosa va a peggiorare. Questi animali prolifero in maniera esagerata e purtroppo il nostro territorio ha delle condizioni che per loro sono adatte. Questi interventi sono stati fatti anche in altri paesi però in questo momento qua il problema grave lo viviamo nel quale lunghe. Spero che la regione e le altre istituzioni su questo aspetto si muovano in fretta.